Musica Buongiorno, buongiorno e benvenuti ad una nuova puntata di Cotte e di Crude Programma di cucina targato 264 Stavo inodorando questi bei limoni perché mi portano fino giù in Sicilia dovete sapere Eh sì perché oggi ce ne andremo in Sicilia andremo a fare una bellissima puntata Sarà un po' diversa dal solito perché oggi saremo tanti Faremo un po' di confusione ma ci sta Ma intanto Daniele Ricciuto che oggi in regia lo faremo impazzire con le telecamere Daniele come stai? Bene, tu come stai? Tutto bene, tutto bene, sei pronto per questa puntata? Prontissimo Oggi abbiamo un bel po' da fare, andiamo nel dolce, andiamo nel salato Diciamo che faremo delle ricette adatte per tutte le età e ve lo dimostreremo Ve lo dimostreremo con i nostri ospiti, io non voglio perdere altro tempo Voglio andare subito da loro Vado da Serena Costantino, foodblogger, che oggi non è sola Ciao Serena Ciao a tutti Come stai Serena? Tutto bene, tutto bene Come è andata l'estate? Come sono andate le vacanze? Eh ma devo dire bene, sono durate poco però Sono volate però l'abbiamo vissute bene Mi ricordi tu esattamente dove sei? In quale parte della Sicilia? A Messina A Messina, a Messina Bene, 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 bene Allora Ti metto i miei due ospiti che si sono nascosti Si sono nascosti Abbiamo Antonio e Michelle Eccoli qui Ciao ragazzi, come state? Benvenuti Eccovi, in tv oggi, siete contenti? Sì, erano molto entusiasti di partecipare Dai, sono contento L'altra volta chi me l'ha mandato il disegno, Michelle? Tutti e due Tutti e due hanno mandato il disegno, me lo ricordo, me lo ricordo Allora, carissimi E poi chiaramente in realtà c'è pure tuo marito che però sta dietro le quinte, che lo salutiamo E poi lo facciamo vedere alla fine Dai, facciamo fare l'assaggio Ragazzi, siete pronti ad aiutare mamma? Sì, sì, questa sera la sera la preparano loro Oh, che bello, che bello E allora, Serena, tu come al solito hai preparato tante ricette, oggi che si fa? Dimmi un po' Allora, intanto prepareremo queste polpette di pollo Che fanno bene sia per i bambini che per gli adulti Solo che per i bambini studieremo qualcosa di divertente nell'impiattamento Ok, va bene, sì, perché poi Serena come sempre è molto attenta anche all'impiattamento, alla presentazione del piatto Vero, Serena, mi ricordo, abbiamo fatto delle bellissime puntate l'anno scorso Allora, io direi, quindi, partiamo con la ricetta delle polpette Facciamo vedere pure la grafica, così al casa vi organizzate con tutto ciò che ci occorre E poi andiamo subito a scoprire come si fanno queste buone polpette Vediamo, 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 vediamo Questo è il pane integrale, giusto? E allora, il pane integrale sì, che accompagneremo a queste polpette Perfetto, allora, questa qui è la ricetta delle polpette di pollo, giusto? Sì, sì È questa qui, ah, perfetto, perfetto Allora, scusate che la leggo, perdonatemi Fatemi leggere gli ingredienti Allora, un attimo che la troviamo, eh Eccola qui, parmigiano, 50 grammi di parmigiano reggiano a pezzi 400 grammi di carne trita di pollo 10-15 grammi di pan grattato, se è impampanato, meglio ancora Un bel uovo, un cucchiaino di origano secco 10 grammi di concentrato di pomodoro Serena, ti devo mandare il pan panato Perché non te l'ho ancora mandato, vero? No, non te l'ho ancora mandato Noi abbiamo un pan grattato, buonissimo Ci sono diverse qualità, con tante spezie E te lo mandiamo, così organizziamo delle belle puntate Bimbi, quindi pure voi, eh Preparatevi, perché abbiamo questo, sarà un inverno lungo Un inverno Ok, è tutto pronto, già Dai, allora, cominciamo subito Andiamo a mettere tutto il macinato all'interno della ciotola Così abbiamo una ciotola un po' più grande Ok, adesso Antonio vado ad aggiungere il parmigiano Che è questo? Vai Antonio, metti il parmigiano, metti il parmigiano Bravissimo, con tutta la ciotola vai Mamma mia che bravo, uno chef proprio Sei bravissimo Adesso mi scello a mettere il pan grattato Eccolo qui Perfetto Allora io solitamente il pan grattato Diciamo lo faccio col pane secco Però vado ad aggiungere tantissimo prezzemolo e basilico Infatti è quasi verde Eh, infatti lo vedevo, lo vedevo verde Proprio per questo ti dobbiamo far conoscere il nostro pan panato Perché noi ce l'abbiamo tutti i speziali Te lo organizzeremo Ufficio commerciale, mandate il pan panato a Serena Costantino Allora, quindi carne Allora, poi andiamo a mettere l'uovo Piano piano, vero? Vai Antonio Ok Forza, forza Ecco qua Adesso mi stai ad aggiungere l'origano E il nostro dottoriga Ok Poi mettiamo il pomodoro Che è l'ultimo ingrediente Ok Vado a mettere Vai Sì, va a cuccare Serena ha diviso equamente tutti i compiti Sì, giustamente Sì, altrimenti poi finisce E c'è una guadilla Come no, è chiaro E lui assaggia Assaggia Si assaggia In cucina si assaggia In cucina si assaggia Adesso mettete le maniche e impastate per bene Vai Voi impastate per bene Voilà Che meraviglia Questa è la parte Infatti io vi spiego come ho fatto il pane integrale Sì, sì, sì Sì, sì Allora Anche del pane integrale Ce l'abbiamo la ricetta, Daniele, vero? La grafica? Dimmi se ce l'abbiamo Così almeno la mandiamo Poi Serena ce la racconta e ce la spiega bene Eccolo qua Ah, perfetto Grazie Allora 380 grammi di acqua Un pizzico di zucchero 20 grammi di lievito di birra fresco sbriciolato 500 grammi di farina integrale 100 grammi di semi di girasole E mezzo cucchiaino di sale Ok No, un cucchiaino e mezzo di sale Questi sono gli ingredienti per il pane integrale Che Serena chiaramente ha già preparato Ma adesso ci andrà a descrivere Interessante questo pane Allora, sì Questo perché? Perché solitamente abbiamo l'avviso di non dare sempre pane bianco E comunque il pane bianco con la farina bianca Diciamo che è privo di tutte le fibre Invece con la farina integrale Ricchissima di fibre E soprattutto per i bambini anche a scuola Che mangiano questi panini sempre di panina bianca Comunque in pochissimo tempo Andiamo a preparare del pane integrale E poi anche fatto in casa è ancora più buono Sì, perché insomma ci divertiamo pure a prepararlo Ma soprattutto poi sappiamo quello che mangiamo In effetti la merenda a scuola È sempre molto importante Perché non è facile Perché spesso alcuni bambini la mattina Non hanno appetito per fare colazione È chiaro, uno si sveglia presto Non è che tutti abbiamo l'appetito E soprattutto, sai, magari noi più grandi Serena, anche se non abbiamo appetito Però conosciamo l'importanza della colazione Allora uno si sforza E si mangia anche quel biscotto in più Quella fetta biscottata Il frutto, quello che sia Però quando si è piccolini È chiaro che è più difficile Poi la fame però È sempre più la tendenza A passare, a mangiare anche cibo confezionato Poi magari noi appunto Se ci svegliamo presto E non mangiamo a casa Anche se andiamo al lavoro Però abbiamo la possibilità Di andare a fare la colazione Ad un bar È chiaro che i bambini stanno a scuola Se non mangiano alle 7, 7 e mezza Quando si svegliano Non è che poi alle 9 Durante la lezione Giustamente pure le maestre Non sanno come regolarsi Bisogna aspettare la merenda Di metà mattinata Magari arrivano troppo affamati Diamo una merenda troppo pesante Oppure troppo leggera Poi il pranzo Insomma bisogna fare attenzione Quindi mi piace molto Questa attenzione Che hai Soprattutto Per appunto Per la merenda Quindi un pane integrale Che prepari tu Che spesso i bambini Si portano a scuola Si Allora Granamente Basta mettere l'acqua A lievita Oppure se c'è il robot Diciamo impostare A una temperatura Di 37 gradi E andare ad aggiungere Lo zucchero E il lievito E per qualche minuto Andare a mescolare Dopodiché Aggiungiamo la parina integrale I 500 grammi Di parina integrale I semi Il durasole E il sale Dopodiché Andiamo a impastare Per almeno Diciamo 4 minuti Se siamo L'impastatrice O robot Oppure a mano Finché l'impasto Non risulta Ben lavorabile Il panetto È abbastanza Formato Dopodiché Io lo vado a disporre In questo Stampo da moon cake Che è bello Che è circa 30 cm Per 12 Per 10 Vado a mettere La pellicola E lo faccio Dievitare Per 45 minuti Ok Con la pellicola Si Con la pellicola E se io uso I 20 grammi di lievito Se io invece Ho la possibilità Di provo a lievitare Un po' di più Posso usare Anche un po' Di lievito di meno Ok ok Allora Dovete sapere Che in realtà Adesso faccio Serena usa sempre Il bimbi Giusto? Sì Veramente Adesso alterno Bimbi Più a metà Un po' di più Però Mi sa che qua Che è successo Col caro bollette Hai deciso Di metterle da parte E di usare i bambini I figli Di la verità Brava Che ormai Si sono messi in opera Dai dai Si scherza No Carino anche la forma Questa forma Del plum cake Così diamo Questa forma Perché spesso Quando facciamo Poi il pane Ma anche quando Lo compriamo Ha queste forme Un po' troppo strane E non ci riescono Neanche bene No Questo è praticamente Il passico Il passico Da un baulletto Che tu puoi fare Esatto Ci abbiamo tutte le fettine Uguali Ed è perfetto Anche più carino Più ordinato Bene bene Poi dieci minuti prima Di andare a rinfornare Rispondiamo il forno A 220 gradi Lo facciamo cuocere Per 20 minuti E poi Gli ultimi 20 minuti Lo andiamo a coprire Con la carta di un vino Perché praticamente Al primo Il pane che si brucia Questa parte superiore E l'interno L'umare Quello Ok Allora non lo scornando Che poi doveva aspettare molto Benito Adesso Facciamo Eccolo Lo tiriamo un po' Vedete Che meraviglia E questo è il pane Vedete L'integrale Che ha fatto In casa Serena Ingredienti Semplici Genuini Bene 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 Questo poi Basta Futtarlo Guardiamo Vediamo un po' Ma sì Ma perché poi ecco Da come il classico Pane da pasto Alla merenda Che sia Con un buon Prosciutto crudo Con un formaggio O anche Un velo di marmellata Un po' Di miele Guardate qua Che meraviglia Sicuramente fa la differenza Bello anche il colore Così un po' Ambrato Giustamente Un pane Un pane Integrale Intanto Lì I robotini Vanno avanti Da soli Sa che ci siamo Bravi Bravi Continuate Voi continuate Mi raccomando Impastate bene Antonio e Michelle Adesso andiamo a fare Delle palline Da 3-4 cm Ok Abbiamo la possibilità O di lasciarle così Oppure di passarle Un po' Un grattato Insieme a qualche cucchiaio Di farina Una lavata In modo da dare All'esterno Una Un'importantezza Bene Quindi andiamo a fare Le palline Mi aiuto a un chilo Vai Perfetto Allora delle palline Abbiamo detto 3-4 cm Una cosina così Piccoline Vedete Così con le mani Piano piano E poi le passiamo Nel pangrattato Il pangrattato Speziato Così ci regala Qualche Qualche sapore in più E poi andiamo a vedere Come servirle Tutto il resto Allora intanto Che voi andate avanti La belli belli Ad impastare A fare queste belle palline Io al volo Proprio Daniele Ti chiedo la grafica Della ricetta Così ci rivediamo Gli ingredienti Che prima Magari non ho fatto Un po' di confusione Vi chiedo scusa E allora Vediamo pure Di che cosa abbiamo bisogno Per queste belle polpettine Che accompagneremo Appunto Con il pane integrale E con una crema Al formaggio Parmigiano Reggiano A pezzi L'abbiamo visto prima Tutto bello grattugiato 400 grammi Di carne Trita di pollo 10-15 grammi Di pangrattato Meglio speziato Un bell'uovo L'origano secco Abbiamo capito Che ad Antonio Gli piaceva E poi 10 grammi Di concentrato Di pomodoro Che ci dà Quel tocco Di rosso E di sapore Che non guasta mai Si mette Guardate Veramente In una maniera Semplicissima L'abbiamo visto Continuiamo a vederli Tutto all'interno Di una ciotola Si lavora con le mani Si impasta per bene Dopodiché Guardate Si fanno delle palline Delle polpettine 3-4 centimetri Poi qui Magari Secondo me Più si fanno piccoline Più sono carine Possono fare anche Da finger food Da Come dire Da pericena Si passano Si passano Nel pangrattato Ecco qua Date lì Una squadra Proprio Oggi abbiamo E sono pro Le prepari spesso Queste polpette Serena Eh sì A volte Di pol A volte Di melanzane Anche Di verdure Per Le verdure Bambini E' chiaro E' chiaro Allora Allora Ti voglio dire Quale che usiamo Quando siamo a tavola Prima di mangiare Allora Allora Quale è la prima Dai La prima Quale è Per samui Da Gesù E c'è da Deci La seconda La seconda E di mangiare Con la bocca al vento Eh beh Giustamente Giustamente Ma è così Poi Dove Mangiare tutto Tutto il piatto Tutto quello Che c'è nel piatto Tutto quello Che c'è nel piatto E' un po' Meno molli che piccoli Tutto quanto Eh ma con una mamma Che cucina così bene Non credo sia difficile E poi Non usiamo In L'ecologia E C'è 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 Quante La giornata È vero Perché adesso stiamo Tu brava Serena Fai bene Perché adesso stiamo Tutti incollati Con questi telefoni Che non riusciamo A staccarci Che ormai Non è diventata Neanche una nostra scelta Però abbiamo tutti questi gruppi Dai gruppi famiglia Ai gruppi di lavoro Ai gruppi degli amici Per cui siamo sempre reperibili Non siamo Non abbiamo più la possibilità Di metterci un po' Da parte E vivereci nella nostra vita Invece Quando siamo tutti insieme Se tu devi a tavola Dopo una giornata Che io sono Loro Ci dedichiamo Almeno quando stiamo a tavola Quando si va al ristorante Si vedono tutti questi tavolini Sui tavoli Che poi sono anche Poco igienici Poco igienici Perché I telefonini Insomma Sono pieni di batteri Mi sa che li hai spediti A lavarsi le mani Di la verità Bellissimo Allora Abbiamo la possibilità O di grigere O di farlo al forno Oppure Io Ultimamente Utilizzo La friggetriscia d'aria Così In poco tempo Comodissima E comunque Non fa male Le vado a discorre Qua Ok Vedete quante alternative Le potete friggere Alla vecchia maniera Le potete mettere Nel forno Oppure la friggetriscia d'aria Che se non sbaglio In pochissimi minuti Poi cuoce le polpette Si si Un quarto d'ora Sono al posto Si 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 Bene Sono anche un pochino Più leggere Quindi polpettine Polpettine di pollo L'uovo Il parmigiano L'origano secco L'origano è il vostro Serena? Si si Anche il concentrato Di pomodoro Avete fatto la salsa Anche quest'anno? Si si Bene Bene Ma la voglio mettere qui Ma si è molto contento E voilà Mettiamo il timer Ci siamo E si preparano da solo Tutta necessità di Sturarle o altro Si ha la possibilità di fare altro I bambini sono tornati Eccoli qua Antonio e Michelle Con le mani Con le mani pulite Ragazzi come sta andando Questa esperienza In televisione Vi stai divertendo? Antonio Ma quest'anno Che classe fai? Dimmi un po' Ehm Asilo La sia Ah ok L'asilo Pensavo andassi già All'elementare Pensavo fossi più grande Ti vedevo così No Io Vado all'elementare E all'asilo Michelle La All'elementare Perfetto Benissimo Invece Michelle Che classe fa quest'anno? Quarta La quarta elementare Quindi siamo all'anno Della comunione Se non sbaglio Eh diciamo di sì Ci siamo quasi Bene 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 Allora Le polpette sono Sono andate Le polpette sono andate Adesso La crema al formaggio La va a prendere il frigo Sì Anche questa qui Poi adesso ce la andiamo a vedere Intanto che mamma Va a prendere la crema al formaggio Noi ci vediamo La grafica Per preparare questa Questa cremina al formaggio Che poi adesso Serena ci descriverà per bene Allora 150 grammi di formaggio Fresco spalmabile 150 grammi di ricotta Ben scolata Dal proprio siero E poi Mezzo cucchiaino Di sale Quel pizzico di sale Che giustamente Ci vuole Per dare il sapore Fatemi fare i complimenti Intanto alla Post produzione Che ha preparato Queste belle ricette Con questo bello sfondo Bravi Molto belle Abbiamo un nuovo look Quest'anno Serena La crema Fammi vedere Che sono Allora La crema È un misto Di formaggio Formabile Ricotta In tutto tipo di sale Basta mescolarle Insieme E riporle in frigo Fino al momento Dell'utilizzo Quindi Siccome dobbiamo aspettare La cottura Delle polpette Se poi possiamo passare Alla ricetta dolce Sì Ti volevo chiedere Però intanto Per questa crema Che tipo di ricotta Hai usato Io utilizzo Quella fresca Ok 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 Bene 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 No Nel senso Che ne so Ricotta di pecora Di mucca Sì Di pecora Di pecora Di pecora Che è un pochino Più Più Saporita Beh No Perché pure questo Sì Perché poi Non sembra Però fanno la differenza No Se utilizziamo una ricotta Piuttosto che un'altra Sia per quanto riguarda Il sapore Sia per quanto riguarda La consistenza Credo Non so Mi confermerai Sì sì Sicuramente è anche Quello Cambia Forse è anche Di un pochino Che cosa sta qua Bene Avete ripreso L'appuntamento Il lunedì Con le altre mamme Su Instagram Sì E' proprio Questo è il tema Ricette per bambini Ah vedi Ecco Ricette Ricette per bambini Allora io lo ricordo Serena ha una bellissima Pagina Instagram Ha molto seguito È da lì Che insomma Ci siamo conosciuti E siamo entrati in contatto Ricette mamme Com'era? Mamme ricette col bimbi Aiutami No Serena ricette bimbi Serena ricette bimbi Ok Nella descrizione c'era mamma Siete un gruppo di mamme Che si scambiano queste ricette Raccontaci un po' Sì Adesso ogni lunedì Scambiamo delle ricette A tema Proprio bambini Quindi facciamo delle ricette Dalle colazioni Dei granzi Che c'è Tutto tema bambini E li andiamo a postare Ogni lunedì Bene Per questo mese Poi in i successivi Ci sarà un tema diverso Perfetto Allora io intanto ne approfitto Vado da Michelle E chiedo Michelle qual è il tuo piatto preferito? La ricetta che ti piace di più Che ti fa mamma? La pasta fredda La pasta fredda? Dai Come la prepara? Ehm... A farà Posso Posso Prima si taglia la brisaola Poi si mette la rucola Poi... La brisaola La rucola Che altro c'è? Dimmi un po' Poi si mette a preparare la pasta Poi... Cosa si mette prima? La rucola, la brisaola Di noi E poi le olive E poi le olive Bene Buona la pasta fredda Invece Antonio La tua ricetta per il tuo piatto preferito Che cosa ti piace mangiare? Dimmi un po' Allora La prima Ehm... La seconda Che la mia più preferita La buona Ehm... La pasta con il pomodoro La pasta con il pomodoro Oh... Semplice Buona ma genuina Giusto? Ehm... Perché poi i pomodori Sono quelli di mamma Dell'orto È vero? Sì E il pomodoro C'è questa pasta E la salsa Perfetto Una salsa Perfetto Esatto Perché una volta Abbiamo fatto un collegamento Abbiamo visto il tuo orto Ti ricordi Serena? Sì 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 Abbiamo messo la scalora Invece c'erano pure i pomodori Che stavano crescendo Sì sì Poi li abbiamo raccolti Che sono anche grandi Eh E abbiamo preparato insieme La salsa Lei E il filo del bottiglio E lui schiacciava il pomodoro Insomma Ognuno aveva il suo compito No? Ognuno aveva il suo compito Bene allora Abbiamo fatto le polpette Per la ricetta salata Adesso invece abbiamo Un'altra ricetta Che è quella dolce Probabilmente non riusciremo Ad iniziarla Perché dobbiamo andare in pubblicità Però intanto ne parliamo Allora a casa Preparatevi già Vi facciamo vedere Intanto la lista Degli ingredienti È una ricetta Molto semplice Sono le merendine paradiso Quelle che sicuramente Compriamo spesso Nei supermercati Non le rifacciamo 300 grammi di zucchero Semolato La scorza Di un bel limone Biologico 6 uova fresche 200 grammi di burro morbido 150 grammi di farina 00 150 grammi di fecola di patate Una bustina di lievito per dolci Una bustina di vanillina E un pizzico di sale Questi sono tutti gli ingredienti Che vi occorreranno Per preparare queste merendine paradiso Che sono tra l'altro buonissime A poi ancora per la farcitura 500 ml di panna fresca 70 grammi di miele E poi zucchero a velo Quanto basta Buonissime queste merendine Vi piacciono bimbi? Siete contenti che oggi facciamo queste merendine? Dite la verità Siete contenti che facciamo queste merendine? Sì Perché vi piacciono? Bene 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 Allora facciamo così Noi adesso andiamo Qualche minutino in pubblicità Voi adesso aiutate mamma A sgomberare il tavolo Magari togliete quello che non vi serve E vi preparate Tutto l'oncorrente Dopodiché torniamo da voi E facciamo le merendine Antonio Le controlli tu le polpette? Eh? Controllale eh Te ne occupi tu Va bene Ci pensa Antonio Michelle tu aiuta mamma Serena Bravo Antonio Controlla Vedi quanto manca Antonio Manca poco eh Ci siamo dai Tempo della pubblicità Ci siamo Ci siamo Ha detto che ci siamo Serena andiamo pubblicità E torno da te Va bene? Va bene A dopo Tra pochissimo Daniele Questa puntata Dile la verità Non ti ho sentito Perché Perché stavo molto concentrato Perché siamo rapiti Siamo rapiti Da questi due giovani talenti Antonio e Michelle Stiamo crescendo Degli chef Qua piccoli E già bravissimi Già in gamba Ma con una mamma così Verranno sicuramente Verrà sicuramente Un grande uomo Una grande donna Noi ci fermiamo Andiamo Qualche minutino in pubblicità Abbiamo bisogno di mamme così Dopodiché torniamo Perché dobbiamo vedere Le polpette Che Antonio sta controllando E poi passiamo Alle merendine paradiso A tra poco Di nuovo bentornati in onda Eccoci qui Ci siamo lasciati Pochi minuti fa Oggi siamo andati Fino in Sicilia Esattamente a Messina Da una nostra ospite Serena Costantino Foodblogger Che voi già avete conosciuto Abbiamo preparato Tante ricette insieme a lei Oggi come potete vedere Io sono Faccio lo spettatore Come voi Perché c'è un vero e proprio spettacolo Perché non è sola Ma è in compagnia Dei suoi figli Antonio e Michelle Che la stanno aiutando E allora Nella prima parte Abbiamo preparato Delle polpette Per chi si fosse collegato Solo adesso Male Molto male Ma noi siamo buoni Vi facciamo rivedere La grafica Delle polpette di pollo 50 grammi di parmigiano reggiano a pezzi 400 grammi di carne di vita di pollo 10-15 grammi di pangrattato speziato Un uovo Un cucchiaino di origano secco E 10 grammi di concentrato di pomodoro Si amalgama tutto all'interno di una ciotola Si lavora per bene con le mani Dopodiché si fanno Vedete Delle polpettine L'abbiamo fatta prima Una grandezza delle palline 3-4 cm Si passano il pangrattato Dopodiché sta a voi Decidere se Friggerle come si faceva una volta Come fanno le nostre nonne Che sono buonissime Al forno Un pochino più leggero O addirittura con la friggitrice ad aria Che adesso va tanto di moda Serena ci ha preparato anche Un pane integrale Ci ha spiegato bene tutta la ricetta A me è piaciuta molto anche la forma Perché lo fa all'interno di uno stampo Da plum cake Così tutte le fettine vengono uguali Ma soprattutto È un pane buono Che ci fa bene Ecco Grazie per la grafica Per il pane Vi occorreranno 380 grammi di acqua Un pizzico di zucchero 20 grammi di lievito di birra fresco Sbriciolato 500 grammi di farina integrale 100 grammi di semi di girasole Un cucchiaino di sale Questi sono gli ingredienti per il pane Poi abbiamo preparato anche La crema al formaggio Con 150 grammi di formaggio fresco Spalmabile 150 grammi di ricotta Bella scolata dal susiero E mezzo cucchiaino di sale Bene E allora io direi che Torniamo pure nella cucina Di Serena Serena ragazzi Eccoci qui siamo tornati Eccovi Eccoci pronti Allora che cosa abbiamo Che cosa abbiamo lì Il pane l'abbiamo visto Ok allora qui Praticamente È una torta paradis Sì Questa torta Io praticamente L'ho fatta Colverizzando Lo zucchero Con la scoza Di limone Che diventa poi Il zucchero a bello Arumatizzato Al limone Dopodiché Con le lame in movimento Vado ad aggiungere Uno alla volta Sono ben sei uova Quindi uno alla volta Una alla volta Sì Ok Finché non vengono Ben bene incorporati Dopo aver fatto questo Io vado ad aggiungere Il burro Lo lavoro un altro po' Sì E il pasto per altri 30 secondi Insomma Se abbiamo la planitaria Intorno alla Quinta velocità Bene Fatto questo Verso tutto In questo composto Se abbiamo Diciamo Lo stampo rodondo Più o meno La diversa Di 26 cm Di piccame Però altrimenti Anche l'angolare Così E lo facciamo cuocere Per 40 minuti Nel forno Preriscaldato A 180 gradi Ok Quindi forno Preriscaldato 40 minuti 180 gradi E viene Vedete Viene questa torta Così bella morbida Una volta raffreddata Sì La andiamo a calorare Ok Guardate Per farla Tornare Voilà Perfetto Vedete Che meraviglia Ah Diciamo che Volendo Immagino che Si potrebbe Già farcire così E fare una torta grande Altrimenti Facciamo Si potrebbe tagliare a metà O fare una torta grande Poi se noi invece Vogliamo fare Una parte torta O una parte merendina Possiamo anche dividerla a metà Certo Ok Facciamo sia Guardate che meraviglia Facciamo sia Le torta Sia Le merendine Vedete che Bene Bene Allora Io direi Facciamo così Tanto non ci serve Quella parte esterna Giusto Ma diremo che poi In qualche modo Allora io direi Antonio Fammi il favore Va Assaggia un pezzettino Di quella parte esterna Dimmi com'è venuta Vediamo un po' Com'è Voce Buona È buona È buona Michelle assaggia pure tu Perché almeno abbiamo Un voto già positivo Vediamo che ci dice pure Michelle Ok Perfetto Quindi abbiamo due Due punti a favore Allora concentrati adesso Vediamo mamma che cosa fa Ecco A questo punto andiamo a fare I nostri rettangoli Più semplicemente Alle merendine A forma di rettangolo Benissimo Perfetto E poi andiamo a tagliare in unità E le facciamo con In questo caso Allora praticamente Quelli che noi consumiamo Al supermercato Hanno panna comprata Sì Quindi diciamo noi Per riprodurre Potermente Quelle che vengono Useremo magari qualche pioggia Per la montata Però se noi vogliamo Fare anche una crema Pi leggera Possiamo fare una crema Plo yogurt E Ho capito Per essere Il bello Perché poi uno può anche Cambiare un po' le ricette Ci si può mettere Non so Della ricotta Della marmellata Del cioccolato Per i più golosi No Quelli poi ci Ci sbizzarriamo Più come preferiamo È chiaro che quelle che Sappiamo Quelle famose Hanno la panna Noi adesso Ci possiamo Ci possiamo divertire Ci possiamo sbizzarrire Anche io direi A casa Provate a rifare Questa ricetta Dopodiché taggate Si accusano Italia TV Ma soprattutto Taggate Serena Perché poi sarà lei A dirci Così ci scambiamo Un po' i pareri Che il bello Della cucina Secondo me È pure questo Che ognuno Poi riesce a fare Proprio una ricetta Vero? Sfatti Adesso montiamo la panna Vai Ok Allora la panna Io l'ho appena uscita Adesso dal fritto Perché è una pasta Un patoletta Deve essere fredda Sì sì Ho aggiunto 70 grammi Di miele Vai Ecco c'è Michelle Che adesso ci monta La panna E Antonio controlla Giustamente fa Da supervisore Ecco qua Perché dobbiamo avere La panna montata Per Per queste Per queste merendine Che adesso Andremo Andremo a preparare E allora A proposito di montare La panna Adesso appena hanno finito Facciamo No Stai tranquilla Stai tranquilla Allora Vediamo se sono stati bravi A montare la panna Antonio e Michelle Adesso Glielo chiediamo subito Perché Se sono stati bravi Antonio Antonio Vediamo Se mi sei No c'è troppo rumore Allora Facciamo così Noi ci rivediamo Intanto la grafica Della ricetta Di queste merendine Intanto che loro Finiscono Di montare la panna Merendine Kinder Paradiso Buonissime 300 grammi Di zucchero semolato La scorza di un limone Che regala Quella freschezza 6 uova Che Serena ci ha spiegato Bene Mettere uno alla volta 200 grammi Di burro morbido 150 grammi Di farina Zero Zero 150 grammi Di fegola di patate Una bustina Di lievito Per dolci Una bustina Di vanillina E un pizzico Di sale Questa è Diciamo Il pan di spagna Chiamiamolo così Dopodiché Le andremo a farcire Come le andremo a farcire Con una Con 500 ml Di panna fresca Miele E zucchero a velo Questi sono tutti gli ingredienti Mi è venuta una OLS Merendine Che non vi dico Secondo me adesso Vado al supermercato Faccio la spesa Mi compro tutto E stasera me le preparo Domani le porto Daniele Preparati Facciamo colazione A Cusano Italia TV Così Allora Michelle Sei stata molto brava A montare la panna Molto brava Veramente Perciò tu adesso Sei invitata a Roma A montare la panna Qui Però questa volta Non con le fruste elettriche Guarda Ma con questo qui Te lo facciamo fare Vediamo se sei brava pure Con questo Questo lo sai che cos'è Questo è uno strumento Molto antico Che mi hanno regalato Delle suore Che facevano i dolci Questo è veramente Sarà degli anni Non lo so Degli anni 40 E una volta facevano i dolci Quando dovevano sbattere le uova Utilizzavano questo qui Capito Non è che c'erano già Le fruste elettriche Sicuramente ci mettevano Un bel po' di più Sto scherzando Però vi aspetto a Roma Quando volete Così cuciniamo insieme Quando non andate a scuola Quando ci sono le vacanze Ci organizziamo Allora intanto mamma Guardate che belle merendine Che sta facendo Buone Andiamo a metterle qua E poi una scuola La scuola La scuola Sì Il zucchero La bella Wow Perfette direi Bravo Facciamo un applauso a mamma Bravo Antonio Bravi Facciamo un applauso a Serena Che ha preparato Queste merendine paradiso Buonissime Allora io vado Vado subito da Daniele Ricciuto Il nostro giudice supremo Daniele Eccomi Che mi dici di questa ricetta? Eh Che vorrei mangiarla Questa va fatta Allora Serena Tu questa l'hai preparata col bimbi O con la planetaria? Come? L'impasto L'hai preparato con il bimbi O con la planetaria? Allora il pane E allora il pane integrale L'ho fatto con i bimbi E invece L'ho fatto con la planetaria Con la planetaria Ok 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 Per farlo con le fruste elettriche Seguiamo lo stesso procedimento Sempre le uova una alla volta Come ci hai descritto Ok Ci vuole solo un pochino più di tempo Certo ci vuole un pochino più di tempo No perché stiamo già pensando di rifarle qui È chiaro No sono pronti con i cucchiaini Per assaggiare la panna Adesso le facciamo assaggiare giustamente Dai assaggiate Assaggiate pure Com'è questa panna montata? Vai Antonio Assaggia Vi voglio parlare Com'è questa panna? Buona Buonissima Buonissima Ti è piaciuta Antonio questa torta? Questa panna? Ti è piaciuta? Di la verità Che è buona Bene bene Allora vi faccio rivedere Proprio al volo La grafica Lì con la sac a poche Che si fa? Allora con questa ora metteremo la crema Ok Allora prima ancora di tornare alle polpette E di impiattare le polpette Al volo proprio Rifacciamo rivedere Così almeno abbiamo chiuso anche questa parte Del dolce Proprio la grafica della ricetta Delle merendine paradiso Così almeno ce l'abbiamo bella stampata Sapete perché io richiamo Sempre le ricette Perché quando ero piccolo Che vedevo i programmi di cucina Mi sfuggivano sempre Allora oggi Che dico la possibilità Di condurre io Un programma di cucina Voglio mettere le ricette Tutte le volte che mi pare Allora Merendine Kinder paradiso 300 grammi di zucchero semolato Scorza di un limone 6 uova 200 grammi di burro morbido 150 grammi di farina 00 150 grammi di fecola di patate Una bustina di lievito per dolci Una bustina di vanillina E un pizzico di sale O lo utilizzate con la planetaria O con le fruste elettriche Ma tanto Serena ci ha guidato bene Ci ha spiegato come dobbiamo fare Per quanto riguarda la farcitura 500 ml di panna fresca 70 grammi di miele E zucchero a velo Quanto basta Questi sono tutti gli ingredienti Che ci occorrono Per preparare queste merendine Merendine che poi potete dire Come ha fatto Serena La preparate con i bambini Insieme a noi Merendine che possono essere mangiate A prima colazione Come spuntichino Magari anche come Come fine pasto pure Serena che dici Si può fare Si possono mangiare sempre Serena c'è Eccola qua Dicevo Serena Merendine che possono essere Mangia Antonio Mangia Possono essere uno spuntino Una merenda Una prima colazione Ma anche a fine pasto Perché no Chi ce lo vieta Si sono a fine Degli dolci Esatto Tu lo prepari spesso Queste merendine? E allora Come dicevo Non con la panna Non con la panna Ah con lo yoke Con la marmellata Bene Bene Certo Così almeno Magari sono un pochino Più Più leggere Ho sentito suonare qualcosa Sono pronte le polpette Vediamole un po' Sono pronte le polpette Eccole Che meraviglia Che meraviglia Guardate qua Quante Quante polpette sono uscite Con quell'impasto Insomma Quante le polpette Sono uscite Queste sono 20 20 polpette Bene bene Allora Michelle che stai facendo? Dimmi un po' Il formaggio da crema Ok Hai preso il formaggio Ok ok Lo stai spalmando Allora Rivediamoci al volo La grafica invece Della crema Al formaggio Che ha preparato Serena Insieme a noi Che altro Non è che Non questa Perché questa Delle merendine Della Della crema Eccola qua Grazie 150 grammi Di formaggio Fresco Spalmabile 150 grammi Di ricotta Bella scurata Dal siero E mezzo cucchiaino Di sale Abbiamo detto Serena Che questa Tu l'hai preparata L'hai messa In frigo Per farla Rapprendere Dimmi un po' Sì 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 Ok Soprattutto Si usa al momento Con quella Fa anche in aglio Quindi Sempre meglio Uscire Ma non si usa al momento Dopodiché si prende Una bella fetta Di pane integrale Che tu hai preparato Si spalma Sopra questa crema Come hanno fatto Antonio e Michelle E poi dopo Vediamo un po' Poi a questo punto Vediamo queste due Poi con una sacca A posto piccola Vado a mettere Un mozzo di crema Qui Per fare Diciamo A un po' di occhietto Sì E con delle olive Vado a fare Ecco In modo che Esce fuori il bianco Poi vado a mettere Anche un colcino Sopra Ci andiamo a mettere Con il peperone E sovracciglia Sovracciglia Fatte col peperone Guardate là Allora Guarda Mamma mia Che bello Sì E poi In assino Ci andiamo a mettere Tutti l'angolino Un po' di peperone Ok Ok Allora Mi prendi un peperone Di quel Ah vicino Di ecco Così lo vediamo Vieni 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 Allora Guardate che meraviglia Eh beh Sì Sembra proprio una faccina Vedete Una fettina di pane La crema spalmabile Gli occhietti Guardate Le polpettine Gli occhietti L'abbiamo fatti con cosa Perdonami Il nero Allora Ho messo sempre la crema Poi le olive Ah con le olive Con le olive Ecco infatti Ecco Con le olive E poi dopo si fa Si fa Bene Allora Adesso le altre Le facciamo fare a loro? Sì Siamo preparate Allora Vediamo Adesso tocca Tocca a miscella Vai Michelle Dimmi che cosa fai Poi dopo Vediamo quella di Antonio Sì Come ha fatto la mamma Sì Come ha Come ha Come ha Come ha Poi Poi Ecco Lucina di crema Ci mettiamo il triangolo Poi adesso andiamo su E poi il peperone Ok Poi 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 il nasino Ok Il nasino Vedete Altrimenti Se non andiamo a vedere la crema Vengono giù a cadere Certo La crema Le tiene Le tiene belle ferme Brava Brava Michelle Adesso Antonio Docca a te Ci sei Forza Antonio Forza Dai Guardate che meraviglia Ecco qua E poi Il nasino Ah beh Ci siamo dimenticati Ma ci stessi Che si compariva Per fare un po' Di capelli Ah giustamente Vedete Ecco vai Rifacciamolo rivedere Vai Riavvicinati pure Il rosmarino Che fa Vedete Eh beh La perfezione Ecco qua Che dà un po' Pure i capelli Hai ricordato Michelle Io l'avevo dimenticata Michelle attenta Brava Michelle ma qual è la tua La materia Che ti piace a scuola Michelle Ce l'hai una materia Scolastica Che ti piace Tutte Perdonami Tutte le faccio Ma una che ti piace Tutte 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 E gli piacciono tutte Eh voglio dire Siamo fortunati Vediamo un po' Con la banana Adolio fammi vedere Guardate che bravo Pure avvieni Michelle Si avvicina Michelle Attenzione ragazzi Con quei piatti Piano Adesso vediamo Ecco A parte li vediamo Anche da là Però comunque Ok bravi bravi Ecco brava Michelle Oh meraviglioso Diamo un voto a Michelle E 10 lode E' bellissimo E' stupendo Bravo Bravo Antonio Bravo Antonio Bravo Antonio Allora ragazzi Adesso vi facciamo Dare i voti Dal giudice Voi non lo vedrete Sentirete solo Solamente la voce E' molto severo Non è che dai voti Troppo alti Il voto più alto Che si può I voti Da 1 a 10 E c'è anche la lode Vediamo se oggi avete preso Il 10 e lode Ok cominciamo da Michelle Daniele in regia Che voto diamo a Michelle Questa ricetta Dimmi un po' Ovviamente 10 e lode 10 e lode a Michelle Brava Michelle Hai preso 10 e lode Adesso però Non è finita qui Perché bisogna vedere Il voto di Antonio 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 Ti piace il piatto Che hai preparato Sei soddisfatto Sei contento Perché io Ho il piatto Per la panna Mi piace il piatto Ti piace A me si creano Di un'immagine Non è Perché la vede Bianca Con questa panna La panna Però per le merendine Che preferisci Fra le merendine E queste polpette Col pane integrale Il formaggio spalmabile Quale vi piace Di più Che cosa Questo O questo Questa Mi piace più quella Allora Vediamo Vediamo Che voto hai preso Daniele Ricciuto Che voto diamo ad Antonio Manca ad Antonio 10 e lode Antonio 10 e lode Pur Antonio Ha preso 10 e lode Ma oggi tornate a casa Con due 10 e lode Bene 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 Quindi queste sono Le ricette Che oggi ci ha preparato La nostra Serena Costantino Foodblogger Che piacere rivederti E piacere conoscere I tuoi figli Grazie Grazie Una bella esperienza Siete bravissimi Ma grazie Ci fa piacere Allora Io direi Siccome Adesso ne vediamo tre Manca il quarto Manca il papà Lo facciamo Lo facciamo vedere Si fa vedere Il regista Si è andata a cambiare Si è andata a cambiare Gli diamo qualche Ciao Grazie mille Che ci fa sempre da regia Ricordami il nome Gaetano Gaetano Tutto bene? Tutto bene Tutto bene Come va questa Questa esperienza da regista Che ti fa fare tua moglie E lei che ti ha invitato Impariamo Impariamo cose buone Bravi Vi divertite Vi divertite Bene bene Grazie grazie Allora io direi Chi è che vuole assaggiare Che cosa? Qualcuno assaggia le polpette Qualcuno assaggia le merendine Dai Antonio Sicuramente vorrà assaggiare le merendine Mamma mia Super merendine Com'è? Buona Vai pure tu Vai pure tu Assaggia Meraviglioso Poi assaggerà Poi assaggerà il tutto E papà assaggia il salato Giustamente Ti tocca Ti tocca Mamma mia Com'è? Come sono? Dall'eserzione Già si capisce Già si vede tutto Già si vede tutto Bene 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 Allora Serena Io ti lascio adesso Grazie ancora Grazie a tutti Veramente a tutta la famiglia Complimenti Sei una bellissima famiglia Prossimi Prossimi progetti Per quest'anno Ci vuoi svelare qualcosa? Che io lo so Che tu sei sempre Con le idee Sei sempre a pensare Vorrei iniziare A inserire un po' di sport Sicuramente Per integrare Visto che ci sono Tutte queste Le basi Le basi Le basi Le basi Le basi Ecco Vabbè dai Invece Antonio che cosa fai tu Nel Antonio fa qualche sport? Sì sì Che fai? Che fai? Giochi a calcio Dimmi un po' Un po' di corsa Si lancia il picco E poi quello di cucina Che è il mio preferito Uno sportivo a 360 gradi Proprio Giusto? Michelle invece? Ehm Alla Anzi no La piscina La piscina La piscina Vabbè Ci avete un bel po' da fare Allora Grazie ancora Serena Noi tanto ci sentiamo presto E Se riuscite Tutti invitati a Roma Va bene? Vi aspetto qua Cuciniamo Grazie Ciao Grazie ancora Grazie Aetano Serena Antonio Michelle Grazie 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 Bene 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 Termina qui Daniele Ricciuto Oggi ti ho messo un po' da parte Ma avevamo tanti ospiti Eh sì È fatto bene Avevamo tante cose da fare Hai visto che bella famiglia? Bellissima Eh? Sì E che belle Che belle ricette Le polpette molto semplici Da preparare Io ancora non ho la friggetriscia d'aria Tu ce l'hai? No Neanche io Ci potremmo organizzare Vabbè Casomai la facciamo Sofia Puppo Ci compri La friggetriscia d'aria Grazie E così Chiediamo in diretta Tutto quello che vi serve Allora Prima di salutarvi Io vi ricordo Come sempre Che questa puntata La potete ritrovare Sul nostro canale YouTube Cusano Italia TV Vi ricordo inoltre Che potete Scaricare l'app Così quando non siete a casa Per vedere il 264 Oppure il 234 Che è l'altro nostro canale Che si occupa di informazione continua C'è quest'app Molto pratica Comoda Così ci potete seguire ovunque Vi ricordo inoltre L'appuntamento La nostra radio Radio Cusano Campus E l'appuntamento con me Il sabato e la domenica Con cambio di stagione Dove ci divertiamo Anche lì E il nostro quotidiano online Tag24 Dove ritrovate Sia quello che facciamo In televisione Che facciamo in radio Ma soprattutto Tutto ciò che accade In Italia E nel mondo Come sempre Le porte della nostra cucina Sono sempre aperte Se qualcuno volesse Partecipare con noi O in presenza O in collegamento Ci organizziamo Ci mettiamo d'accordo Collegamento Skype Vi raggiungiamo ovunque Se volete venire in presenza Siamo a Roma Per partecipare Noi abbiamo La nostra parte medica Che ci fa il tampone Tutte le settimane Per cui state tranquilli Trovate persone tamponate E tamponiamo pure voi Grazie a tutti Noi ci vediamo Come sempre Qui Quando volete Se volete Dalle ore 11.30 Minuto più Minuto meno Ma solo sul 264 Con dicote di crude Ciao 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 ciao